Amici di Libasi siamo qui con Gianluca Marchetti, Gianluca grazie per essere qui. In una serata negativa per la squadra, a parte i 5 minuti del secondo quarto di cui ha ricordato coach Pancotto, sicuramente la tua presenza è stata una delle note più positive. 9 minuti, 4 punti, 2 assist, 4 falli subiti, hai dimostrato grande personalità questa sera. Mi alleno tutti i giorni per cercare di fare bene in partita, quei pochi minuti che gioco. Però al di là di tutto cerco sempre di guardare il risultato di squadra, perdere così siamo delusi, arrabbiati. Quindi non si possono prendere 90 punti in trasferta, perché è impensabile vincere dopo. Piano piano è un momento difficile, piano piano risaliamo insieme. Coach Pancotto ha proprio detto vorrei vedere la squadra arrabbiata dopo una prestazione così, questo tu lo hai confermato. Ha detto anche però in certi momenti della partita è sembrato quasi che la squadra non sapesse da dove ripartire. Hai avuto anche tu questa impressione, che la cosa fosse un po' smarrita in certi aspetti dell'attacco, ma anche in difesa? Come hanno visto tutti, penso non è un momento facile per noi. È impossibile pensare che dobbiamo ripartire dall'attacco uno contro cinque, dobbiamo ripartire dalla difesa e nel collettivo di squadra. Piano piano, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, dobbiamo risalire. Ci sono alcune cose che vi ha chiesto l'allenatore che siete già riusciti a mettere in campo? Si è visto qualcosa che avete preparato per questa partita? Adesso mi viene molto in mente, però abbiamo lavorato molto sul collettivo nostro, sui sistemi nostri, sul bilanciamento in attacco e in difesa. Il problema oggi non è riuscito benissimo, cercheremo di lavorarci ancora di più. Grazie Gianluca, complimenti. Prego, grazie a voi.